...questa è la cosa... dai, vai! Sì, vabbè, comunque, siccome noi siamo un quotidiano online e si fa un po' di tutto, sembra che il comparto più in difficoltà sia quello della difesa nel calcio oggi. Secondo lei questo pensa che sia dovuto a una minore preparazione già fino dalle squadre giovanili oppure proprio il calcio che è cambiato e diventato più veloce? Ma non c'entra, non è che c'è difficoltà nel comparto della difesa, è che magari certe squadre privilegiano un gioco d'attacco e magari possono avere delle difficoltà nella fase difensiva. Non credo che sia un grande problema. Secondo lei il calcio giovanile italiano, tra cui tra l'altro la massima spessione, è proprio il torneo di Viareggio. È ancora in grado di esprimere dei talenti internazionali a livello internazionale? Nelle varie rappresentative nazionali ci sono Ander 20, 19, 18, tantissimi talenti importanti. Un'ultimissima domanda sulla Juventus che sta passando un momento di crisi. Secondo lei ha più bisogno di un direttore sportivo o di un allenatore? No, non sono cose che completano bene. Grazie. Grazie.